Benvenuti al nuovo appuntamento del TgWebLis del Consiglio regionale di Basilicata. Verificare la possibilità di un'azione giudiziaria per dichiarare nulli i contratti derivati sottoscritti dalla regione Basilicata nel 2006 e recuperare i costi sostenuti in questi anni. Lo prevede una risoluzione di Napoli, Cifarelli e Perrino, approvata dal Consiglio regionale che impegna l'esecutivo ad intraprendere azioni legali anche in virtù del pronunciamento dell'Unione europea sulla manipolazione dei tassi Euribor avvenuta fra il 2005 e il 2008. La Quarta Commissione chiederà l'intervento del Dipartimento Sanità per verificare l'impatto sulla salute degli impianti eolici installati nei pressi delle abitazioni a piani del mattino, alla periferia di Potenza. La decisione è assunta dopo l'audizione di un portavoce dei cittadini che protestano per la vicinanza degli impianti alle abitazioni. La Commissione chiederà al Comune di Potenza l'elenco delle autorizzazioni rilasciate per gli impianti mini-eolici nella zona. Risolta la vicenda della sede Avis di Potenza. La Regione si farà carico del pagamento all'Ater della prima tranche del fitto, mentre il saldo verrà riconosciuto con l'assestamento di bilancio. Soddisfazione viene espressa da Polese, che ricorda di aver presentato con Napoli una mozione chiedendo l'impegno della Giunta per evitare lo sfratto della sede Avis. Soddisfatto anche la corazza, per il quale questa vicenda deve rappresentare un inizio per rimettere al centro delle politiche regionali il tema della raccolta e utilizzo del sangue. Romaniello ricorda che la Regione non aveva rispettato l'accordo sottoscritto con l'Avis che prevedeva il pagamento del fitto della sede di Potenza, cosa regolarmente avvenuta fin dal 1982. E' evidente a tutti i lucani il fallimento del nefasto esperimento delle estrazioni petrolifere in Basilicata. Così Leggeri e Perrino, dopo il dibattito svoltosi in consiglio sulla sospensione delle attività del centro oli. Nessuno, hanno detto, ha ancora avuto il coraggio di chiarire la quantità di greggio sversato, quanti terreni attorno al cova risulterebbero essere contaminati, in quale situazione si trovano le falde acquifere. La sospensione del cova apre una nuova stagione del rapporto fra la Basilicata e il petrolio. Lo ha detto Sant'Arsiero, precisando che quando si riaprirà nulla dovrà essere come prima. Abbiamo bisogno di certezze e non di aggiustamenti. E' in gioco l'ambiente, ma anche la credibilità dell'Eni. Se si riprenderà l'attività, la produzione non dovrà comunque superare i limiti previsti dagli accordi, fermando nei prossimi anni qualsiasi tentativo di altre indagini. Una situazione drammatica e paradossale. Così il consigliere Rosa definisce la vicenda della mancanza di acqua per irrigare verificatasi a Sant'Arcangelo. La burocrazia mette in ginocchio le imprese agricole e le attività produttive del territorio, interrompendo un pubblico servizio senza alcuna giustificazione. La non curanza dei vertici dell'ente irrigazione è inconcepibile e non è tollerabile. E' necessario incrementare gli stanziamenti per mettere al centro delle politiche pubbliche le famiglie e il lavoro ed invertire la tendenza recessiva che stiamo attraversando. Resta intollerabile che circa 5.000 persone in Basilicata vivano in condizioni di povertà. Così il presidente del consiglio regionale Mollica nel suo intervento al convegno della Caritas Diocesana che si è svolto a tricarico. L'uso, che spesso sconfina nell'abuso della rete, costituisce un'emergenza educativa e diventa necessario dotarsi di regole di vita comune. Lo ha detto il garante dell'infanzia Giuliano in un convegno sul bullismo dove ha invitato a testimoniare i valori etici fondanti della convivenza umana. Insegnare ai ragazzi in una società multiforme e stratificata, ha detto, è una sfida di particolare complessità. E' tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.